Ma vede, io ho una grande simpatia nei confronti dei tassisti e non ho mai fatto guerre di religione, io sono un laico, non ho mai fatto guerre di religione o guerre simboliche. Pensare che i problemi dell'economia italiana risiedano nella, tra virgolette, liberalizzazione del mondo dei tassi, mi sembra una cosa ridicola. Grazie a tutti.